Io penso che i tifosi di Gela ormai sanno benissimo che sono un allenatore molto ambizioso come lo è la piazza, per cui cercherò di dare al massimo, lo sai nel mio lavoro sono uno che do tutto e che di conseguenza penso anche quest'anno di raddoppiare le energie. Nessun volo pindarico ma la giusta attenzione per regalare ad un'intera città le soddisfazioni che merita. Il concetto manifestato dal tecnico del Gela, Toto Bruculeri, non fa una grinza. L'allenatore conosce l'ambiente che lo circonda e soprattutto conosce il campionato di Serie D, un torneo difficile e appassionante. Il club biancazzurro sta lavorando alla ricerca di altri giocatori da inserire nel gruppo. Siamo già al lavoro per quanto concerne il discorso delle conferme dell'anno scorso di confermare il zoccolo d'oro. Poi andiamo anche su un progetto per quanto concerne il discorso dei giovani perché quest'anno rispetto all'anno scorso c'è un under in più. Dobbiamo soprattutto lavorare su questa lunghezza d'onda. Non è facile anche perché in questo momento non è facile ripetere i ragazzi. Stiamo cercando in tutti i modi di monitorare sia nei professionisti che nei delettanti cercando di prendere meglio il prodotto. La società sta lavorando abbastanza bene. Il direttore sportivo sta facendo un grande lavoro in sintonia con lo staff tecnico. Stiamo cercando in tutti i modi di poter allestire una buona squadra per regalare grande soddisfazione ai tifosi. In questi giorni la società sta sondando alcuni luoghi siciliani per il ritiro precampionato. Stiamo lavorando anche su questo. Io già prevedo che possiamo fare un paio di settimane fuori, forse tra Catania e Caltagirone. Stiamo vedendo delle strutture che ci possono ospitare cercando di fare un grande lavoro. Il giorno 14 penso che inizieremo con i testi dei vari giocatori, con la consapevolezza di affrontare un campionato difficile e penso che il campionato di Serie D sia un campionato di C2, perché ormai tolti i gironi di C2 è chiaro che è un campionato impolpato. Io lo ritengo già un campionato ad alto livello dove bisogna avere la possibilità di poter lavorare con gli uomini giusti.